Passiamo alla votazione della mozione numero 162, Bernini ed altri, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Si è così conclusa la discussione di mozioni. Allora, comunico a Senatrice Bonino, perché cosa Senatrice? Scusate, un attimo di silenzio. Senatrice Bonino, perché cosa? Volevo solo segnalare che l'aggeggio non ha funzionato. Prendiamo atto. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge dal Presidente del Consiglio dei Ministri, conversioni in legge del decreto legge 7 agosto 2019 numero 75, recante misure urgenti. Quindi l'interrogazione di cui chiedevo risposta urgente è la numero 401821, che tra l'altro parla delle aggressioni all'interno delle strutture ospedaliere, un tema che tra l'altro è di forte attualità. Quindi, Presidente, chiedo la... Il Senato non approva. Il Senato approva.